Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Anteprima puntate dal 15 al 17 settembre. Alla tenuta la tensione è palpabile. Saniye non accetta l'autorità di Sevda e si rifiuta di obbedirle. Sevda ne parla con Demir il quale va su tutte le furie e riprende duramente Saniye. Quest'ultima è sconvolta e in quel frangente scopre, grazie a Uzum, che il marito, Gaffur, ha ricevuto una lettera dal centro per l'impiego nella quale viene autorizzato a emigrare in Germania. Nel frattempo, dopo quanto accaduto con Mujgan, Ficheli accetta che lei e Yilmaz divorzino, purché Mujgan rimanga ad Adana in una casa da lui acquistata, e che Kerema li resti a vivere col padre. Mujgan non accetta di separarsi dal figlio e progetta di farsi trasferire in una piccola località dove fuggire col bambino. Anche Yilmaz e Zuleya progettano la loro fuga e decidono di partire nel giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Unkar. A Villa Yaman, Razit sembra scomparso e nemmeno la sua amata Fadik sa dove sia finito. Di lì a poco lo stesso Razit spiegherà a Fadik che è stato licenziato. Il giorno prima, infatti, per farle una sorpresa, aveva nascosto nella serra un anello, che trovato da Aziz e la quale, pensando fosse un regalo per lei, lo indossa. Razit, cerca di riprendere l'anello, ma Sevda sopraggiunge e, pensando a un furto, lo licenzia. Sanì e Fadik così cercano in vano di difendere Razit, spiegando a Demir e Zuleya l'accaduto. Zuleya e Yilmaz preparano la loro fuga. Cogliendo l'occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Unkar, Zuleya scioglie un potente sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Durante la notte, mentre tutti dormono sotto l'effetto del sonnifero, Yilmaz e Zuleya fuggono con i bambini. Yilmaz e Zuleya, nella notte, cercano di fuggire con i bambini nella speranza di potersi finalmente costruire una vita insieme, ma vengono fermati dalla polizia. Il commissario avverte Demir, che va alla stazione di polizia a riprendersi i suoi figli Adnan e Leila e chiede a Zuleya di tornare a casa con lui. Alla stazione di polizia, Yilmaz trova il padre Ficheli, l'uomo è furioso con lui per avergli portato via il nipote Keremali senza dirgli nulla. Egli dice che non lo considera più suo figlio. Zuleya accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Serda la consola. Il mattino seguente, dopo essere passato dal padre Ficheli per chiedere in vano il suo perdono, Yilmaz si reca alla villa di Demir. Le lettere inviate dagli Yilmaz risuonano nell'anima di tutti i loro destinatari, in quella di Ficheli, di Mujgan e persino in quella di Demir, il suo nemico giurato. Demir decide finalmente di ascoltare la voce della sua coscienza e di lasciar andare Zuleya. I due divorzieranno e la nostra protagonista potrà finalmente tornare tra le braccia del suo amato Yilmaz. Demir augura alla coppia di trovare la felicità che merita, ma ha una condizione, che la piccola Leila resti alla villa, mentre Adnan andrà via con Zuleya. I due si promettono che potranno vedere i loro figli ogni volta che vorranno. Anche Yilmaz e Mujgan divorzieranno e bisogna decidere chi si occuperà di Keremali. Mujgan si ostina a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti di Yilmaz, ma Ficheli risolverà la situazione proponendo la sua soluzione. Infine, Demir e Yilmaz si stringono la mano in segno di pace, intenzionati a porre fine alle ostilità. Demir capisce quanto controproducente sia stato il suo comportamento e concede a Zuleya il divorzio. Mujgan è più reticente, ma anche lei divorzierà da Yilmaz. Alla luce di questo, Beice reclama presso Ficheli un atto notarile che metta in sicurezza finanziaria la nipote e Keremali. Ficheli si infuria e assicura a Beice che, anche senza atti, mai farà mancare il suo sostegno a Mujgan e Keremali.